Sono stati premiati l'8 e 9 giugno, nell'aulo a consigliare, gli studenti vincitori del concorso diventiamo cittadini europei, bandito dalla consulta regionale europea. Riservata alle scuole superiori del Piemonte, il concorso anche quest'anno ha avuto una forte partecipazione. Un gruppo di studenti premiati ha già partecipato alla giornata Euroscola a Strasburgo e un altro al viaggio studio a Budapest. Questa la dichiarazione del Vice Presidente del Consiglio regionale Riccardo Molinari, delegato alla consulta europea. Oggi a Palazzo Lascaris in Consiglio regionale abbiamo premiato i vincitori della 27esima edizione del concorso diventiamo cittadini europei. Quest'anno sono stati premiati 170 studenti, è stata una selezione veramente difficile perché sono arrivati ben 1097 temi. I ragazzi sono cimentati su due tracce. Cioè il percorso di unificazione europeo comparato col percorso di unificazione nazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e dall'altra parte il processo di riforma federale dello Stato e l'integrazione del sistema regionale all'interno dell'Unione Europea. Questi temi hanno contribuito a formare dei cittadini europei sicuramente più consapevoli. Grazie. 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 Grazie.